Grazie a tutti Quindi se alle 6 tu rientri e prendi il mio posto, io vado a fare la partitella di tennis, va bene? Poi quando rientri devi fare un salto alla camera 33, c'è una signora che abbiamo operato oggi, è un po' impressionabile, la settimana telegiornale sembra impressionata, apri la porta e gli dici signora oggi l'ospedale è pieno, lavorano 100 persone, lavori solo tu, non c'è un caso, sta contenta e siamo tutti a posto, va bene? Se ne guarisce per un fatto psicologico, va bene? Poi io ti copro anche per il ponte di Pasqua, va bene? Tranquillo ci penso io, ma mi sembra che siete tanti che ne volete laverà però? Se mi coprite il mese di luglio, vi prometto che vi copro il mese di agosto a tutti qua, una settimana, va bene? Va bene, timbro io per voi Grazie a tutti